Musica Nuovo appuntamento con le notizie di oggi a Nordeste. Iniziamo dalla cronaca. Il sequestro preventivo di un tratto di arenile di oltre 25.800 metri sul litorale di Bibione è stato eseguito oggi dalla Guardia di Finanza di Venezia. Il reato ipotizzato è di occupazione abusiva di area demaniale marittima utilizzata per finalità turistico-ricreative. Sono stati denunciati due funzionari comunali di San Michele al tagliamento per abuso d'ufficio e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, il concessionario, per occupazione abusiva. Ha soggiornato per una sola notte a Verona la coppia di turisti cinesi ora ricoverati allo Spallanzani di Roma per il coronavirus. Lo rende noto la Direzione regionale prevenzione del Veneto. Sono stati inviati nell'albergo i sanitari del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 9 Scaligera per effettuare le necessarie indagini. La coppia ha avuto contatti solo con un addetto dell'hotel. La persona in questione che ha avuto un contatto per quanto breve a una certa distanza per precauzione si sottolinea è stata sottoposta alle procedure della sorveglianza attiva che prevedono la verifica costante delle condizioni di salute e della temperatura corporea. Esiste un rischio di oggettiva paralisi del funzionamento della giustizia. Sanità, istruzione e giustizia sono i pilassi di una società democratica che, se uno di questi pilassi, cioè la giustizia, incontra difficoltà di funzionamento gravissime come le attuali, c'è il rischio che un momento di forte tutela delle istituzioni vengano meno e l'allarma è lanciato oggi dal Presidente della Corte d'Appello di Trieste, Oliviero Drigani, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. A livello distrettuale, ha aggiunto, i numeri testimoniano questa difficoltà. Per quanto riguarda i direttori negli uffici giudicanti, il tasso di scopertura media in Friuli, Venezia e Giulia è del 43,3%, con 13 posti vacanti su 30, per i funzionari contabili al 33,3%, 2 su 6, per i funzionari giudiziari al 52,3%, 56 su 107, per i cancellieri esperti al 33,8%, 23 su 68. Nonostante si abbia personale di magistratura numericamente sufficiente, tutto l'apparato amministrativo tecnicamente e professionalmente più qualificato non c'è. 12 pietre d'inciampo sono state posate oggi a Venezia in occasione del Giorno della Memoria, il percorso è iniziato dalle pietre d'inciampo in memoria di Gilda Jesurum Foa, per poi proseguire con quelle per Vittorio Coen Porto e Amelia Coen Porto Levi, Augusto Coen Porto, Iole Jesurum e Marisa Jesurum, Eugenio Saraval, Giuseppe Iona, Pia Cesana Mariani e Leo Mariani. Infine, davanti alla casa israelita di riposo, sono state deposte le pietre di Ada e Ida Ancona. Venezia, ancora una volta, si dimostra sensibile al tema della Shoah e della memoria e può essere di esempio per tutti e soprattutto per le nuove generazioni, ha detto la Presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, e lo sta facendo oltre che con questo percorso, anche con numerose altre iniziative, come il conferimento della cittadinanza onoraria, che daremo, dice, alla senatrice a vita, Liliana Segre. Ed ora la linea passa alla redazione di Treviso. Nostra famiglia in provincia di Treviso, 300 dipendenti in stato di agitazione, l'azienda ha annunciato di applicare ai lavoratori dal 1 febbraio un diverso contratto collettivo nazionale, ovvero passare dal contratto collettivo nazionale lavoro-sanità privata al contratto collettivo nazionale lavoro-residenze sanitarie assistenziali, con un peggioramento delle condizioni. Treviso ha arrestato lo scippatore seriale di anziane, e la polizia attribuisce a Manolo Bettini 11 scippi ai danni di altrettanto anziane, avvenuti tra luglio e agosto 2019, nei comuni di Treviso, paese Ponzano. Aziende a caccia di neolaureati, 30 assunti in un giorno a Treviso, requisiti una laurea in materia scientifica, disponibilità a trasferte di lavoro, competenze digitali. Questo è il Recruiting Day targato Alma Laurea ed è stato un successo. In provincia di Treviso crescono le pizzerie, la pizza è il piatto anticrisi, e la pizza preferita è quella tonda, tradizionale, cotta a legna nel forno a pietra. Vincono i gusti tradizionali su quelli gourmet, con 8 connazionali su 10, quindi il 78,8%, che scelgono la marinara, la margherita, la napoletana e la capricciosa. Villa Cappelletto imbrattata dai vandali, il Comune dice costituitevi. Venerdì 31 gennaio, sul mure esterni dell'edificio, dove a sete la biblioteca comunale di Vedelago, sono comparse una serie di scritte con lo spray. Caccia ai responsabili. Rosario Moreno, Treviso, per Radiodiffusione Europea. Costruire un sistema forte a favore delle imprese è il primo degli obiettivi che abbiamo dato all'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa. Questo non significa solo armonizzare norme già esistenti o mettere mano a leggi di settore, bensì immaginare un piano strategico industriale di sviluppo di tutto il territorio, ipotizzare nuove strade e nuovi percorsi con soggetti che siano responsabili insieme alla politica del viaggio che andiamo a intraprendere. Questo è il commento dell'assessore al lavoro Alessia Rosolain nel corso del workshop Essere Sistema verso il piano strategico di Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa. dialogo con le imprese dei cluster che si è tenuto al molo quarto di Trieste e che ha visto anche la partecipazione dell'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini. Stiamo realizzando un'operazione difficile, ambiziosa ma necessaria, che ha una forte valenza culturale. mettiamo a sistema tutta una serie di azioni che finora risultavano sparse su diverse iniziative e normate in modo frammentario, ha precisato Rosolain. Gli ambiti sono quelli della formazione, della creazione di lavoro e del sostegno delle imprese con i soggetti che la Regione ha individuato nei parchi scientifici e nei cluster. Puntiamo a stipulare una convenzione interregionale, quadro tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Sardegna per la collaborazione tra i due corpi forestali finalizzate in prima battuta a prevenire, analizzare e contrastare gli incendi boschivi. L'obiettivo è stato annunciato dall'assessore regionale alle risorse agroalimentari forestali e ittiche e alla montagna Stefano Zanier al termine di un incontro nella sede della Regione di Udine con una delegazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna guidata dal generale Antonio Casula comandante del Corpo e dal direttore dell'Ispettorato dell'Ogliastra Salvatore Cabiddu. La delegazione ospite si tratterrà in Friuli Venezia Giulia fino a domani per assistere a una dimostrazione di intervento a Moggio Udinese della squadra SIAI del Corpo Forestale Regionale e successivamente per un sorvolo in elicottero della Monte Iovet colpito da un grave incendio nel 2013 con brinkfinging finale presso la sede del Corpo Pompieri Volontari di Moggio Udinese cui seguirà un sopralluogo nella foresta di Fusine e una visita alla squadra AIB anti-incendio boschivo di Osoppo. La regione ha creduto e crede in ITS evento di rilievo internazionale che coniuga talento, capacità e professionalità tanto da affidargli il compito di istituire a Trieste uno dei poli culturali e formativi del Friuli Venezia Giulia per il settore della moda. Abbiamo scelto di sostenere il percorso dell'International Talent Support e di investire nell'apertura della ITS Academy perché crediamo che l'attività e la crescita di un territorio si possano sviluppare anche attraverso la cultura e la creatività. Lo ha dichiarato l'assessore regionale a lavoro e formazione Alessia Rosolen intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del contest creativo ITS 2020 che si è svolta nel palazzo della regione di Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste. ITS sarà il polo per Trieste ha aggiunto l'assessore ma stiamo investendo in analoghi cluster formativi con differenti vocazioni in tutto il Friuli Venezia Giulia. Sono percorsi sui quali stiamo investendo con decisione che coniugano formazione, eccellenze e peculiarità del territorio capacità di impresa e innovazione. Siamo in chiusura quindi passiamo alle previsioni meteorologiche. Domani sul Friuli Venezia Giulia dalla costa alla fascia prealpina prospicente la pianura a cielo da nuvoloso a coperto con foschie o nebbie sulla fascia orientale, sulla costa probabili pioviggini o deboli piogge sulle Alpi e sulle zone interne delle prealpi tempo migliore, specie in quota con inversione termica nelle valli di notte. Passiamo al Veneto, sulla pianura a cielo molto nuvoloso o coperto con nebbie sparse fino all'alba in dissolvimento al mattino e di nuova formazione di sera. Sui monti, graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata fino a cielo molto nuvoloso coperto tra il pomeriggio e la sera con delle nebbie nelle valli prealpine fino al mattino. È tutto per questa edizione di Oggi a Nord-Est appuntamento alla prossima. Grazie. 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 Grazie.